Musica Hakuna matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio gamer89, siamo tornati su Destiny Signori, ma quanto siete bravi, mamma mia, bombardate sti video che mi piace, che mi piace Stiamo al corso d'inverno, bacino di Isla Venere Mentre i Vex marciano per rivendicare il bacino di Isla Il casato dell'inverno dei catuti sta rimettendo forse un potente arconte Evaso dalla prigione degli anziani nell'atollo Trova l'arconte prima che ripristini pienamente la propria anima Perfetto, questo è matchmaking, ci andiamo giù pesante Mentre troviamo i nostri colleghi, che ognuno di noi farà affidamento sull'altro Vi ricordo che abbiamo queste fantastiche armi Tra l'altro ho provato questa, non mi piace ragazzi, l'ho provata, non mi piace Magari sarà buonissima per il matchmaking sicuramente, ma non mi piace, è lenta Non mi piace, mi piace molto più un bel fucile da cicchino sinceramente Strano che non ci stanno dando questa Comunque mi piange il colo a vendermela, ma prima o poi questa qua ce la dobbiamo vendere Questo io con la pompa non ci faccio niente, non mi interessa, non lo voglio un fucile a pompa, non lo voglio In più ho visto che abbiamo anche un fucile di precisione che toglie 155-164 Diciamo che effettivamente è più forte di questo che abbiamo qua Però questo ha 5 caricatori, quindi secondo me sono meglio 5 caricatori Cioè se volete proprio sapere la mia, per me sono meglio 5 caricatori Comunque abbiamo... Caduti nel bacino di Ishtar su Venere Pare abbiano attaccato la prigione degli anziani all'atollo e recuperato un prelato arconte Ok La ricompensa della regina è ricca, il compito non sarà semplice Dobbiamo abbatterlo prima che la sua anima sia ripristinata Ok Ma qua manca la navicella, io non voglio di niente O siamo... Lo sapete perché ho visto che delle volte... Eccolo! Mazza, me sa che questo è di livello... Ciao! Ciao, Mico! Ah, no, pensavo che non venisse, ma voi andate avanti, io arrivo dopo Me sa che è di livello basso, non voglio dire, eh 17, 18, no Va bene, va bene, va bene, va bene Vaglie così Siamo pronti? E si vola, ragazzi, si vola Che poi abbiamo tutti livello 17 Tranne quello là che sta a livello 18 Ci sta, a noi manca pochissimo per arrivare al livello 18, eh Vediamo un po' quello là quando arriva, se parte Se tante volte parte, perché ne hai detto neanche che parte Dai, è così C'è andato quello? C'è ci sua? Che fa questo? Questo fa i grandi magheggi, fa Qua è pieno di gente però, eh Io ve lo dico Ah, li volevo sconfiggere subito? Va bene Mi piace questo Mi piace questo ragazzo Ma ha ragione Mi piace davvero tanto Vai così Dai, è così È arrivato anche l'altro, eh È arrivato anche l'altro Quindi qua ci facciamo Rifornimento di armi E munizioni Ah, vi ricordate questa zona qual è? Io me la ricordo Io me la ricordo Quindi Dai, 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 dai Oh Madonna quanti sono là dietro Non so se Non so se avete visto Oh Vieni qua Bello de casa Vieni, vieni Guardate che velancio Quanto so gentile, oh Capitano Vieni qua Vaffanculo, capitano Eh Menaglie, menaglie Io gli do i bugni Vabbè Ah, yeah Me mena Me mena Proprio una cattiveria Sto capitano Vieni qua Oh Eh Mo capitano Io non voglio di niente Ma Era un po' troppo stronzo Per i cacchi miei, eh Questo ce l'ho carico Questo ce l'ho carico E dobbiamo andarcene qua Qui Era quel boss Che praticamente abbiamo Ammazzato in due secondi e mezzo La casata dell'inverno Adesso mi sono ricordato Ammazza che memoriona Forse perché l'avevo letto anche prima Non lo so Ma chi se ne frega Dai, regà Dai, regà Eccola qua La zona A rientro limitato Questi già Cosa ci fa? Eh sì Questi già sparano Questi neanche ci hanno visto Già sparando Questi brutti, strunci Oh Che fai? Via Non te voglio Non te voglio proprio vedere Non ve voglio vedere Speriamo di non lasciare niente Perché comunque Nell'altra puntata Ci ha droppato l'infinito, regà Cioè È stata una puntata Molto fortunata Sto giro non mi sembra Che ci sta da giù Pesantemente Eh Non mi sembra proprio Sto sincero Non mi sembra proprio Saci Ostra quanto fate male Passi alle maggi Mamma mia C'è una bombetta È che c'è l'ho una bombetta C'è l'ottima bombetta Dai, è così Questo Questo che se ne va tutto triste Guarda come se ne va con l'Itra Tutto triste, forello Dai, è così Ragazzi Voi pensate a l'Itra Io faccio fuori Capitan Findus E gli amichetti suoi Fatto fuori Meno male Dai, è su Oh Qui non vedo Non mi sta droppando mezzo oggetto Qua sento esplodere Proprio cose Grosse più che altro Oh Eccomi qua Ciao Guarda, 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 guarda Ah, mi sa che questi già stanno qua su Ah, no, no, no Stiamo, stiamo andando noi avanti Vieni qua, capità Capità, no Guarda che stanno ammazzati Io te lo dico, eh Questi sono forti comunque Resistono abbastanza bene Oh, vedi? Guarda, questo qua Bisogna Fa così Questo me lo voglio prendere Eccolo Oggetto blu Immaginavo che era un oggetto blu Che fa? Ah, vai via Portaci su Quanto è potente sto coso Ragazzi, dai, e su Nocetto blu Mamma mia, meno male Meno male che sta Incominciando a dropparmi qualche cosa Scusate ma io mi prendo le munizioni Non si sa mai Perché qua va a finire Che rimaniamo sempre senza Dai, dai Stiamo qua Stiamo qua Non te gira Te preoccupa che non te lascio fare Kill a te Me le voglio fare tutte Io me le voglio fare Quindi Ce ne andiamo Sempre per di qua Quello un tanto I caduti affrontano i vex Sì Bene Si scaldano per noi Eh Vedi Perfetto Andiamoci giù Bello pesante Vediamo un po' Ah, questa è la parte della nave Me la ricordo Vi ricordate che ho cecchinato Come un maledetto da qua sopra, no? Che magari lo voglio anche rifà Tra l'altro Quindi Vai così Che c'è qua? Oh Oh Dai, dai, raga Mortacci vostra come Quanti sono? Ma quanti sono? Guarda, guarda, guarda Così 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 Oh Vedi che pure lui Come si diverte Dai e va Sniper elite Proprio Oh No E che cazzo Sniper elite faccio Che ho finito le munizioni? Intanto Non so Non so Do cazzo Andato Quell'altro Ma sicuramente Sta a fare Un po' Stronzo Eh, ve lo dico Ma non penso che ci siano Tantissimi problemi Anche se questa È bella difficile Eh, ma se faccio così Non ne prendo mezzo Perfetto L'importante È segniare da subito Oh, là c'è Stanno le munizioni Ah, è così Scusa Lei che vuole Ma mica per cattiveria Eh, ok Perché comunque Stiamo troppo lontani Per Attaccare Come si deve Tranne qua Oh Vedi Qua facciamo sempre Oh, diamo una botta De De vitalità Ah Stavo per cascare Ma porca miseria Speriamo che me stanno a seguire Perché se no Ce faccio una bruttissima fine Ve lo dico Ce faccio Aio Che ha fatto questo? Ma come c'è morto? Eh Ma Ma vieni qua Ma no Ma so cascato come un cretino Dai Vai Ecco Abbiamo Ripulito l'aria Abbiamo ripulito l'aria Che Che ho fatto un fail Incredibile Ma non lo sapevo proprio Qua si prospetta Bella cacciara ragazzi Eh Qua veramente si prospetta Che se fanno Proprio male Ma male 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 Qua lo spawn Ce voglio Provare Vai così Oh Qualche danno l'abbiamo fatto Questi Chi se ne frega Oh Vai Preso Dai dobbiamo riprenderlo Perché se no Gli riprende Oh Bellissimo Bellissimo Dai 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 L'ho rotto L'ho rotto tutto L'ho visto L'ho rotto Dai 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 Ragazzi però dovete sparare Io ve lo dico Dovreste sparare Un pochino di più Eh Eccolo 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 Che poi questi qua Mi sa che i punti deboli Non ce l'hanno Lo dico io Mi sa che non ce l'hanno Questi qua i punti deboli Dacci loro Dai Via qua Via qua Bello De papà Bello De papà Lui quanto sono resistenti Ragazzi Quanto sono resistenti Oh che non mi ha troppato più nulla da prima eh Questo me c'è butto in mezzo Perché non resisto Banzai Se ne frega Oh Madonna Livello 18 Livello 18 Perché Si fa così Oh Potenziamento sbloccato Questi li dobbiamo far fuori perché Sono di una potenza Smisurata Veramente Sono di una Potenza smisurata No però tu non mi puoi far così Cioè tu non mi puoi far così A destra Ne sento tantissimi eh Cioè a destra Non so Mortacci vostra Quanti Quanti Ma porco D'ora sono tutti morti i miei Eh ragazzi Qua vi dovete rianimare Voi fate Oh Fate Fate come volete Ok No Pensa che uno è uscito Lo dico io Pensa che uno È uscito È uscito Oh Ci abbiamo ancora qualche Colpo si Oh Vedi Io provo No no Non ci provo neanche a venire da te Ma sti cacchi Rianimate Rianimate proprio Ok Sei rianimato Sei rianimato Vai 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 Diamogli Perfetto Oh C'è sta andata pesante Amico nostro Ma pesante proprio Dai 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 Però mi dovete far volare Madonna Fatemi andare via da qua Fatemi andare via da qua Ok Oh Mamma mia Mamma mia Dai 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 Questi si fanno Questi si fanno easy Questi si fanno easy Però Se non mi date le munizioni Mi dite io come sparo No A parte tutto Dai 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 Non so se Oh Vedi Dai Mi servono munizioni Eccole Eccole Dai 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 Però uno non può rischiare Demoni pannasse a prendere munizioni Mi sembra Un po' una cazzata Eccolo Guarda quello là Che stava FK Tu sta Portacci Però non ce prende Questo a sinistra mio Cioè Non ce prende proprio Rosario Qualche cosa Abbiamo sbloccato Va bene Dai 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 che siamo delle mitragliatrici Siamo delle mitragliatrici Oh Mai che c'è Dai una sorpresa Incredibile Mai eh Cacire te Io il cecchino Me lo riserverebbe dopo Sicuramente Questa a destra C'ha una bell'arma Questa a destra C'ha un'arma Cagliata Questa a destra Si c'ha un'armetta Niente male Niente Cosa Ok Va bene Dove dobbiamo andare Non ho capito Trova Il Ah Dobbiamo andarcene Per di là Qui praticamente Ci stiamo solo Accumulando Un po' di energie Ma io sto full Ragazzi Io sto full Entriamocene qui dentro Rilevo comunicazioni Dei caduti Stanno ripristinando Il prelato Arconte Facciamo in fretta Te pare Scommettiamo che tanto Se ti sveglia Quando ci andiamo noi Che fighe Dice che si arrabbiano Se prendiamo il loro barracuda Ma quando mai Ma so amici nostri Ma che si arrabbiano Io vado a fare Vado a fare un casino Questo o vorrei Il barracuda Dai Però io non capisco Perché fai scintille O se è rotto O non lo so mica Oh Dai ragazzi Dai così A fare le stragi Oh Tutti morti Qual è il problema Che poi là Abbiamo anche un progresso Mesa conquista Mesa di sì No Si surriscalda Dopo un po' Che peccato Dai 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 Però vi dovete togliere Perché io devo sparare No 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 Mortacci vostra No Ok Con calma Con calma Con calma Facciamo Così fa più danni Se lo Ah Se lo facciamo raffreddare Fa più danni Guardate questo Guardate questo Che me sta proprio a rompere il culo C'ho tutto che me va a fuoco Ma ti pareva E' sempre mio quello che si rompe per primo Siamo Ci siamo Abbiamo sbloccato La nuova zona Mi sa che uno c'è No Uno c'è sta proprio per morire Ma per fortuna Non c'è morto Madonna Questi qua sono fortissimi Dai 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 Questi no Questi proprio con tranquillità ormai Ce li mangiamo Ma quello Oh Quello resiste Non so quanta armatura c'avrà Ma ce n'ha tanta Dai Non sta però Guardalo Guardalo Sto maledetto Ma puoi morire Oh Dai Ragazzo Oh non mi ha droppato più niente Ci ha droppato quel casco blu Finish Finish proprio Che dobbiamo fare con sto coso Pronto Sveglia No Ma sveglia il cacchio Aspettate che qua Dobbiamo fare lo sponchillo Aspettate Dai Ma che vieni addosso Ma che davvero Dai 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 Sponchi il sopra Sponchi il sotto Sponchillo ovunque Aia C'è qualcuno di grosso C'è qualcuno di grosso Aaaaaa Aaaaaa Ma allora Vedi che c'avevo ragione Guardale Guardale Questi cecchini Che cacchio Oh le M'ha rianimato Ma questo è un grosso Questo è un grosso Ha capito tutto Dalla vita questo Lo dico io Dai Dai Che in tre E' più facile Che in due Ovviamente Dai c'è due A me quanto mette paura Però Eh Questi si nascondono Un po' troppo Per I cacchi miei Eh Un po' troppo Dove state Eccoli Ci abbiamo pure qua Perfetto Lasciamogli una bella bomba Che gli fanno capire un attimo In comanda Eh ma mica Per niente Lassopra ci dovrei andare A vedere però Eeeh Ne sento la puzza Porca miseria Tenti Stronzo Ma non è che Io posso perdere tempo con te Eh Eh Ma mica peccati Veria Sei morto Basta No Eh Quindi qua Che dobbiamo fare Sicuro che sia una buona idea Ma che stai a scherzare Dai C'è Un tasci sua Pensavo che non si apresse Se apre Sento Movimenti Sento Movimenti Oh Chi è È Buzz Lightyear Forse Uuuuh Vabbè Cava No Era ammune Ma porca Minchia Vabbè Ma meno male che c'ha St'arma del cacchio Che È proprio Stronza St'arma Vieni 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 Bello De papà Mamma mia Danni No Aspetta però Aspetta che questi Oh Mi ha flashato un faccia Ah Ma che sei scemo Scusate se me ne vado Eh Mo ritorno Portacci vostra Ed è un po' Troppi Dai Questo Io lo togliamo Da Da mezzo Io togliamo anche questi Prima dobbiamo togliere i piccoli Oh Qua c'è un potenziamento Dai Perfetto Tutte Armi verdi Che cacchio ce faccio con le armi verdi Ce faccio niente No 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 Devi morire Non puoi mica rimanere così Scusa Dai 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 Perfetto 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 Dov'è quello che sente ritrasportato Dietro Ce l'è dietro Ma porca miseria Ce l'è dietro Lo sapevo io No T'ho sentito sa Oh Vedi che Vedi che comunque Gli schiaffi ce li prendi Gli schiaffi ce li prendi Madonna C'è qualcuno che sta Lanciando Oh Mamma mia Proprio i grandi È durissimo È fatto di pietra Neanche La pietra è più facile Porca miseria Dai 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 Ragazzi però Se anche voi sparaste Come sparo io Te garantisco che questo Non durerebbe così tanto Oh Facci vostra No Né Non me Puoi sparare Oh Madonna Quanto gli torgo col cecchino Il cecchino è una mano santa Rega Oh Dai 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 I vetini Grandanni Eh Li vedi i danni Eh Cicciogamer Che te li fa I grandi danni Dai Cazzo Scomparso Oh Mamma mia Mi piace quando non mi prendi Dimmi da me Mi piace proprio tanto Però devo Ottimo Dai Altre munizioni Per il cecchino Per il cecchino Mortacci Ma gli posso sparare tutto Quello che volemo Rega Mortacci tua Ma che stai a dio Non puoi essere così forte di vita Cioè no Ma veramente no Dai 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 Perfetto Ce l'ha con me Gli sto proprio antipatico Gli sto proprio antipatico Eccolo Rega Eccolo che non manca tanto Ma gli stiamo Praticamente a fare le ulti addosso Mamma mia Meno male che gli hanno messo st'arma Ma meno male Dai 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 Mamma mia Sto perché fa Sto perché fa Dai 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 Eh che cazzo Dai Fatelo Fatelo però Fatelo L'hanno fatto Sicuro a 100% Dai Dai Però rianimatemi Pronto rianimami Rianimatemi Fatemi prendere gli oggetti Bella Fammi rianimatemi Porco te Mi ha appiccicato addosso al muro Ma no So buggato Dai So buggato ragazzi Guarda Guarda Eh Grazie Grazie mille Mi puoi rianimatemi Ma quante volte Te pare Non posso fare niente Dai Che significa Che significa Vabbè Meno male che non ci stanno oggetti Per terra Va bene Va bene così Vediamo un po' se siamo fortunati Vediamo se siamo stati fortunati Che ci troppa qualcosa di incredibile Vediamo un po' Vabbè 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 Ci poteva andare peggio Ci poteva andare peggio In realtà Ci è andata abbastanza bene Quindi Continuiamo 131 uccisioni 59 20 Ragazzi Proprio Spanne Proprio Più in alto Veramente Spanne proprio più in alto Perfetto Perfetto Sento cose sbloccate Armamento leggendario Sbloccato Marchi Cronologi Avanguardia Marchi Cronologi Avanguardia Sono arrivato per acquistare Armamento leggendario Alla torre Perfetto Perfetto Bene Vediamo un po' Sono andato sulla terra Sono tornato Vediamo un po' Ci abbiamo Innanzitutto Qualcosa da potenziare qua Una granata che si attacca a qualsiasi superficie Mettendo periodicamente danni elettrici Non mi interessa Sono sincero Non mi interessa Mi piace la mia Mi piace la nostra Più che altro Allora Ci abbiamo Fucile automatico a 164 Fucile da ricognizione 166 Non mi piace la ricognizione Fucile da ricognizione 166 Non mi piace Quindi queste qua Me le posso vendere Così ci prendiamo le parti dell'arma E ci prendiamo altre cosette Che ci possono essere utili Questo l'ho comprato Vabbè 132 Richiede livello 15 Caricatore 2 Questo qua Lancia razzi Meno male Ok questo me lo posso dar via Chi se ne frega Oh 75 89 Questo intelletto Questo forza No mi voglio tenere un po' di intelletto Sinceramente Questo Però Questo è più figo raga Questo è un pochino più figo Sinceramente Teniamocelo Teniamocelo Questo me la posso potenziare Mi posso portare più armi Più munizioni E siamo a posto Signori Decideremo insieme Per questo qua Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Tanti pollicioni in su Commentate Condividete Al prossimo appuntamento Con il vostro Ciao Ciao Ciao